Sentenza storica per la statua dell'Isippo, l'atleta di Fano deve tornare in Italia. Chiuse le candidature alle elezioni europee, ecco i marchigiani in corsa per Bruxelles. A Pesaro si demolisce l'ex chief, da rudire fatiscente nasceranno appartamenti vista mare. 42 barche al via della 38esima regata Pesaro-Pola. Dialogo fra Pesaro e la Bosnia, arriva Merak Festival. Una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV. Ritorna Rossini News dopo la breve pausa legata al primo maggio festa dei lavoratori. Riecco l'informazione serale del nostro canale 80. Telegiornale di giovedì 2 di maggio che apriamo con la notizia che riguarda una sentenza a suo modo storica per la statua contesa dell'Isippo, il cosiddetto atleta di Fano, da anni al centro di un contenzioso con il museo californiano Ghetti. Il tribunale di Pesaro ne aveva infatti ordinato il sequestro e la restituzione nel 2010 e oggi anche la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha respinto il ricorso del museo americano di Malibu, che dovrà restituire la statua l'Italia e in tal senso ci spera la città di Fano, nel cui mare fu ritrovata la scultura nel 1964 per poi essere acquistata dal museo californiano nel 1977. Dopo il lungo contenzioso si conferma dunque oggi che l'Italia ha il diritto di confiscare questo bene archeologico. E restando su argomenti in cui le marche si intersecano alla dimensione internazionale, proprio ieri si sono chiusi i termini per presentare le candidature alle prossime elezioni europee. E allora vediamo chi sono i candidati per quello che riguarda il nostro territorio. 15 candidati marchigiani, 6 della provincia di Pesaro Urbino. Questo il numero della rappresentanza del nostro territorio che dovrà sgomitare fra gli oltre 120 candidati che si presenteranno alle elezioni europee nella circoscrizione dell'Italia centrale. Ieri è infatti scaduto il termine ultimo per presentare le candidature all'elezione al Parlamento europeo dell'8 e 9 giugno, che saranno simultane alle elezioni amministrative. Una battaglia elettorale complicatissima, come ricordano i precedenti, che da 20 anni non vedono nessun marchigiano eletto a Bruxelles. Il meccanismo elettorale prevede infatti che 15 dei 76 eurodeputati italiani che siederanno al Parlamento europeo saranno eletti nella circoscrizione Italia centrale con sistema proporzionale. Un distretto elettorale sovraregionale che comprende, oltre alle Marche, anche il Lazio, la Toscana e l'Umbria. Ci proveranno i due sindaci uscenti della seconda e terza città delle Marche, vale a dire Matteo Ricci da Pesero e Massimo Seri da Fano. Ricci è tra i tre nomi del Partito Democratico candidati assieme alla Conterranea, nonché ex deputata Alessia Morani e al sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. Seri è candidato con azione e il partito di calenda presenterà anche Germano Craia e Umberto Trenta. Altro fanese in corsa è il parlamentare Mirko Carloni, che per primo esternò la sua volontà di correre alle europee. Assieme a lui, nella Lega, candidata anche Anna Menghi. Centrodestra completato dalle candidature del consigliere regionale Carlo Ciccioli per Fratelli d'Italia e di Graziella Ciriaci per Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle Marchigiano presenterà invece le candidature di Mirella Emiliozzi e Sergio Romagnoli. Fra i pesaresi in corsa anche Tiziano Busca per Stati Uniti d'Europa e l'assessora del Comune di Pergola Sabrina Santelli, candidata per Alleanza Verde-Sinistra, assieme a Dagnese Santarelli. Tra qualche giorno a Pesero verrà demolito un rudere che da decenni era fra i più faticenti biglietti da visita di ingresso della città. Vediamo di che edificio parliamo. Via il rudere abbandonato, in arrivo appartamenti di pregio vista mare. Inizierà la prossima settimana la demolizione dell'ex CIF, edificio in degradante abbandono che da anni fornisce a Pesero un faticente biglietto da visita per chi proviene da Fano nella sua collocazione all'intersezione fra Via Colbe e la statale a poche decine di metri dall'alberghiero Santa Marta. Edificio degli anni 50, il CIF, centro italiano femminile, fu dapprima a Colonia Estiva, poi casa di riposo ed è stato poi al centro di svariati tentativi di recupero andati a vuoto fino all'asta di fine 2022, dove è stato ceduto per poco più di 2 milioni a due imprese idili appaltatrici che ne realizzeranno una conversione in appartamenti ad uso residenziale turistico. Sono previste due settimane di intervento di demolizione per poi avviare la costruzione di una palazzina di 5 piani più uno interrato. 31 gli appartamenti previsti. Un blocco di operazioni edilizia insisterà sulla statale, un altro sul retro. Il risultato sarà un impatto immobiliare di pregio anche in ottica turistica a vista mare. Un'operazione di ricostruzione che avrà una durata di circa due anni con l'auspicio di completarla per l'estate 2026. Le immagini che vi mostriamo ora arrivano dal porto di Pesaro, dove attorno alle 16 è partita la 38esima regata sulla rotta dei Trabaccoli, in manche unica da Pesaro a Pola. 42 le imbarcazioni del medio adriatico che hanno issato le vele nell'appuntamento organizzato come sempre dalla Lega Navale di Pesaro che rinnova un grande appuntamento velistico che rappresenta anche una lunga storia di amicizia fra le due sponde marchigiana e istriana. La competizione prevede poi un secondo appuntamento a Pola il 4 maggio con la classica Pulska, ovvero la regata fra le isole istriane giunta alla 63esima edizione. Ed ora un approfondimento legato ai temi della salute e in particolare alle possibilità di prevenzione verso le malattie cardiovascolari. Oggi le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morto e disabilità per metà della popolazione italiana. Patologie che vanno innanzitutto affrontate con la cultura della prevenzione perché troppo spesso la diagnosi viene effettuata quando la malattia è già in stato avanzato. La diagnosi percoce offre però possibilità davvero fondamentali e ne sono convinti nel centro specializzato pesarese Fisioradi Medical Center dove è stata implementata la strumentazione e le pratiche di diagnostica non invasiva. Abbiamo la fortuna che siamo arrivati a poter fare prevenzione con una diagnostica ad altissimo livello, una diagnostica che oggi si basa su un'attacca e una risonanza magnetica, macchine che naturalmente possono portare le persone a vedere il proprio cuore oppure le proprie problematiche cardiache prima che siano sintomatiche. E quello che noi abbiamo fatto qui a Fisioradi Medical Center per riuscire a dare un servizio ai cittadini abbiamo cambiato l'attacca, abbiamo preso un'attacca a 128 strati per riuscire a fare questi tipi di accertamenti, abbiamo una risonanza magnetica ad alto campo ma soprattutto siamo riusciti ad avere in struttura una dottoressa specializzata in refertazione di questi tipi di esami. Grazie a questa implementazione tecnologica abbiamo la possibilità di andare a stratificare il rischio cardiovascolare anche nei pazienti asintomatici, nei pazienti giovani in modo molto accurato perché con questa attacca riusciamo a visualizzare lo specifico carico di malattia del singolo paziente e questa è una guida fondamentale per il cardiologo e per il medico in generale per impostare una terapia mirata e personalizzata e non basata semplicemente sulla stima epidemiologica del rischio. Nei casi più complessi, quando vogliamo una diagnostica più raffinata, utilizziamo anche un mezzo di contrasto che aggiunge un'ulteriore fondamentale valutazione che è quella della pervietà per esempio delle coronarie o in caso della valutazione degli aneurismi all'esame che stiamo andando a fare sempre in modo non invasivo andando quindi a lavorare sul fronte di ampliare la diagnostica per i pazienti a basso rischio mentre quelli ad alto, altissimo rischio continuano ad andare ad esami molto più invasivi come la coronarografia. Ho vissuto questo problema su me stesso due anni fa facendo una prova sotto sforzo c'è stata un'alterazione dell'elettrocardiogramma e il medico sportivo mi ha mandato dal cardiologo che mi ha fatto fare un'attacca alle coronarie e ho scoperto di avere una coronaria otturata dell'85% senza aver avuto nessun sintomo e poi ho fatto un'angioplastica quindi ho risolto il mio problema e oggi rifaccio tranquillamente la mia vita normale di tutti i giorni la mia vita da sportivo sono uno che ha sempre fatto sport e sta continuando a fare sport quindi quello che possiamo dire è che oggi se crediamo nella prevenzione e se facciamo prevenzione anche senza accertamenti invasivi possiamo veramente evitare malattie, problematiche cardiache abbiamo visto come anche su persone di 40-50 anni stanno crescendo queste problematiche. Regione Marche e Camera di Commercio hanno presentato questa mattina la nuova campagna promozionale per le Marche realizzata da Atim una campagna che sottolinea come nelle Marche non si rinuncia a nulla perché si trova di tutto dal mare alla montagna il gusto, i borghi, la natura, lo sport e la cultura campagna che si svilupperà nei media e nei principali eventi promozionali Paolo Costantini, presidente dell'associazione albergatori pesaresi di Confcommercio è stato nominato presidente provinciale di Federalberghi Costantini succede a Luciano Cecchini di Fano recentemente eletto vicepresidente regionale di Federalberghi Ed ora gli appuntamenti culturali dal 6 al 31 maggio torna la tradizionale rassegna dei concerti del Conservatorio anche quest'anno studenti e docenti del Conservatorio Rossini si alterneranno in 10 concerti alle 18.30 sul palco della Sala Bay della provincia di Pesero Urbino primi due appuntamenti fissati per il 6 e l'8 maggio avranno come protagonisti gli studenti Nicola San Marten al pianoforte e l'ensemble di quattro fisarmoniche composto da Luca Casadei, Gabriele Camilletti, Riccardo Giaccaglia e Gloria Nobili dal 26 al 30 giugno Fano torna ad essere la città del libro si arricchisce infatti di nomi e di eventi il programma della 12esima edizione di Passaggi Festival appuntamento dedicato alla saggistica che attende i lettori con presentazioni, laboratori, mostre, spettacoli il tutto a ingresso gratuito divulgati oggi i nomi dei principali ospiti si tratta di Lucio Caracciolo, Roby Facchinetti Barbara Stefanelli, Luigi Manconi, Alessandro Cattelan, Etero Basiche, Daniele Bossari, Alessandra Mussolini, Luca Bizzarri, Nando Dalla Chiesa, Selene Calloni Williams, Marcello Veneziani, Maria Beatrice Alonzi, Piero Formica, Mara Cerri, Luca De Gennaro, Giulia Cerrapica, Alessio Torino, Nadia Terranova, Francesco Costa, Vittorio Giardino e Marco Malvaldi da Passaggi Festival a Merak Festival, un format che a Pesaro approfondisce il legame culturale tra la nostra terra e quella bosniaca il Merak Festival si propone come una serie di dialoghi, di incontri tra le due sponde, tra le due associazioni, tra le due città e tra i rispettivi cittadini il Merak Festival inizia questo sabato, sabato 4 maggio, presso il locale Alla Volta con un incontro letterario alle ore 18 tra una scrittrice, Italo Bosniaca Elvira Mucic e un editore traduttore, Giuliano Geri con l'accompagnamento musicale di Freda Neri è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che arriveranno praticamente fino a fine anno il primo incontro che noi faremo il 13 di maggio e si tratta della seconda edizione del premio dedicato a Gianfranco Pagnoni di Dario che è stato un nostro storico socio e fin dal lontano 93 quando l'associazione è nata, inizialmente ad Osimo e poi ha proseguito a Pesaro nel 98 quando c'è stato un primo incontro con le scuole Anna Frank e Alexa Santice di Novigrad Sarajevo e infatti anche in queste edizioni di questo premio ci saranno sempre, parteciperanno sempre le due scuole proprio per rinnovare questo ponte e questa collaborazione che dura da tanti anni Merak è una parola turca che però è diffusa su tutto il territorio balcanico e individua uno stato di piacere quella dimensione che ognuno di noi si ritaglia in una giornata, in una settimana che è fatta di piccoli gesti che può essere appunto un buon libro un film per noi significativo, chiacchiere con un'amica, un caffè, la sigaretta perché per qualcuno è un momento di piacere e questo è Merak e questi eventi che abbiamo appunto organizzato insieme a Time for Peace vogliono essere dei momenti di piacere condivisi Alla scoperta del grande sport dietro le quinte questo è il titolo della rassegna arrivata al secondo appuntamento che si terrà sabato a Palazzo Montagna Antaldi Da Gianluca Pascucci a Giorgio Ciaschini da Matteo Panicchi a Matteo Giunta a Palazzo Montagna Antaldi si accendono i riflettori sullo sport dietro le quinte secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati da Fisioclinic del dottor Piero Benelli medico della VL e della Nazionale Maschile di Volley che sabato 4 maggio dalle 17 sarà di nuovo protagonista nel far emergere le eccellenze sportive nate nel nostro territorio e salite alla ribalta mondiale fornendo lavori preziosi all'ombra dei successi degli atleti protagonisti 5 personaggi dietro le quinte dello sport che si declineranno nelle loro storie di successo per basket, calcio, volley e nuoto in una tavola rotonda moderata da Sara Spadoni ex atleta di nuoto sincronizzato sia per quello che riguarda il sport di squadra appunto che quindi si del lavoro di team che anche nello sport individuale c'è un grandissimo lavoro psico, fisico e mentale da parte di tutti quelli che possono essere allenatori preparatori atletici, fisioterapisti, mental coach o comunque scouting che vanno pochettino ad agire a 360 gradi di tutto quello che è lo sport e l'attività dell'atleta in questo caso di alto livello Sabato e domenica di festa per il borgo di Candelara che propone profumi e sapori di primavera una ricca rassegna organizzata dalla Proloco il 4 e 5 maggio vi aspettiamo a Candelara per una festa dedicata alla primavera il sabato alle ore 16 si apre un mercatino con i prodotti tipici nel quale troverete anche degli animaletti da cortile per la gioia dei vostri piccoli bambini e per loro anche dei giochi i volontari della Proloco hanno predisposto anche un punto ristoro e domenica pranzo hanno pensato un menù con i prodotti tipici di questo momento a un prezzo anticrisi di 20 euro tutte le sere ci saranno sketch e spettacoli teatrali ci saranno band in concerto e il grande ballo in piazza e il DJ set ma anche eventi culturali infatti il sabato alle ore 15 e 30 si riapre il museo PAC dopo i lavori di restauro alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci alle ore 17 si apre nel centro di Candelara o Piccina d'Arte uno spazio espositivo e laboratorio gestito dagli artisti Katia Fornaroli e Marsiglio Pianosi ed infine alle 17 e 30 parte la quindicesima edizione di Candelara Arte con una mostra collettiva a cura di Macula e Spazio Diaz dedicato a un workshop fotografico infine domenica alle ore 10 e 30 si sono dati appuntamento a Candelara con i loro trattori il comitato orgoglio agricolo della nostra provincia per parlare di promozione e valorizzazione del Made in Italy tutti questi appuntamenti sono ad ingresso gratuito vi aspettiamo a Candelara si conclude qui il nostro spazio informativo di Rossini News continuano però gli spazi informativi in questo giovedì perché subito dopo il telegiornale alle 20 vi mostreremo il nostro speciale dedicato a Banca di Pesaro che in questi ultimi giorni ha tenuto la sua assemblea dei soci 2024 vedremo i temi che emergeranno per quello che riguarda presente e futuro della banca nello speciale realizzato da Paolo Pagnini e poi il giovedì sera è la serata di insieme a Canestro siamo alle porte dell'ultima decisiva giornata del campionato di Serie A e questa sera nel salotto di Elisabetta Ferri a partire dalle 21.20 ci sarà il playmaker della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Justin Wright Foreman e il giornalista Michele Romano il tutto contornato come sempre dalle vostre domande dai vostri commenti in diretta al numero Whatsapp dedicato 370-366-721-0 insieme a Canestro questa sera alle 21.20 altra diretta è quella di domattina quella di Buongiorno Rossini la nostra consueta rassegna stampa dei quotidiani locali che comincia alle 7.20 e che domani sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi si chiude invece qui l'informazione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi che si chiude